Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata da Computer Museum Puntata che è iniziata veramente male e praticamente cosa è successo? Allora visto che come sapete chi è che fa sulla nostra fanpage sa che stiamo facendo il gameplay di Jurassic Park The Game In teoria l'abbiamo finito cioè in teoria è già stato finito montato e tutto Il problema è che durante la notte mentre stava caricando non so per quale motivo stamattina mi sono ritrovati messaggi come questo Oppure come questo Come avete visto sono messaggi di violazione di copyright e quindi preferirei Cioè li ho eliminati praticamente in modo che non mi dessero problemi riguardanti il canale Anche perché se mi incomincierebbero a mandare il primo strike poi il secondo strike e il terzo sono fottuto Comunque vabbè a parte quello li ho eliminati Quindi quindi visto che abbiamo problemi di questo genere li ho voluti ricaricare su Diamondion Come sapete anche lì abbiamo un canale quindi senza problemi li ho caricati E vabbè comunque usciranno sempre nelle date 27 e 28 Comunque nel link in descrizione trovate il trailer della Computer Museo che in teoria doveva essere sul canale Però che ci hanno eliminato perché c'era col copyright Vabbè ho eliminato io perché era ancora disponibile ma visto che dava problemi l'ho tolto io Quindi trovate il link in descrizione dove ci sarà il render che lì vi spiegherà praticamente tutto Quando ci saranno le puntate, come saranno e che tipo di formato e roba del genere Va bene ragazzi io vi ringrazio come sempre per il vostro supporto, per la vostra pazienza E grazie a tutti e alla prossima puntata